Dovete prenotare una visita specialistica, ma non volete attendere i tempi lunghissimi degli ospedali? Ho la soluzione perfetta per voi. Ve la svelo tra poco qui, su Tech Princess. Ortopedici, pediatri, dermatologi e oculisti, non importa di che tipo di visita abbiate bisogno. Normalmente l'attesa è di diverse settimane, persino per coloro che decidono di farsi visitare privatamente. Fortunatamente esiste una soluzione pratica e veloce, miodottore.it. Si tratta di un sito web che vi permette di trovare gli specialisti presenti nella vostra città per poi prenotare un appuntamento. Ma come funziona? Semplice. Inserite la categoria che vi interessa, la città e poi cliccate su Cerca. Miodottore.it vi darà una lista di nomi, mostrandovi le foto, gli indirizzi, i prezzi e le recensioni di ogni singolo medico. Non mancano persino gli studi fatti, le competenze linguistiche e le patologie trattate. Accanto troverete anche un calendario che vi mostra la loro disponibilità e che consente di prenotare una visita. A questo punto dovrete scegliere il giorno, l'ora, inserire i vostri dati e il gioco è fatto. Ad aiutarvi avete anche dei comodi filtri che vi consentono di selezionare i metodi di pagamento accettati dai diversi medici e il tipo di prestazione. Supponiamo stiate cercando un pediatra per vostro figlio. Potete dire a miodottore.it che volete fare una visita a domicilio, un test di screening o una normale visita in ambulatorio. Una volta trovato lo specialista che fa per voi, non dovrete far altro che presentarvi all'appuntamento. Avete paura di dimenticarvelo? Tranquilli, miodottore.it vi invierà un promemoria tramite sms. Questo sito però non è pensato solo per aiutarvi a prenotare visite mediche in modo facile e veloce. Il suo archivio infatti include 184.000 adottori che possono essere facilmente ricercati usando nome e cognome. In questo modo potrete ottenere informazioni sugli specialisti che avete già conosciuto e lasciare loro una recensione per aiutare qualche altro paziente a trovare il medico ideale. Niente poi vi vieta di lasciare una bella recensione anche per il vostro medico di famiglia. Miodottore.it non è però dedicato solo ai pazienti. Il portale infatti ha un'intera sezione per i medici che decidono di aderire al servizio. Qualunque specialista o medico di base può decidere di aderire a miodottore.it. Per farlo basta creare un profilo completamente gratuito che consente di ottenere un po' di visibilità e di costruire la propria reputazione online. Attivando invece il profilo premium, gli specialisti potranno gestire la loro agenda delle pronotazioni, sfruttare la segreteria virtuale e creare persino un sito web personale. Direi che anche per oggi è tutto. Io vi ricordo di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!